Grazie, è un piacere per me di finire questa conferenza, perché dopo la grande illuminazione di Professor Romano Romadei, che ovviamente è venuto da Roma, mi seguo per descrivere questo grande concetto di Nicolaus Guzzano, perché morì a Todi, attenzione, il 11 agosto 1464. Sigmund's capitulation in 1464 veniva un po' di giorni dopo Nicolaus' morte a Todi, in Umbria. Dopo la sua morte, Guzzano' corpo fu interretto nella città di San Pietro in Vicolo in Roma, probabilmente neanche la scuola di città di Pietro, ma era una scuola laterale, a Roberto e Nicolaus' monumento con l'immagine scuola del cardinale. Due altre tombe, una mediale e una moderna, sono anche scuola nella città, una tomba, l'altra tomba, con tutte le strome. In accordo con questi obiettivi, il cielo resta con due altre tombe, una mediale e una moderna, città di Città di Città di Città. In accordo con questi obiettivi, il cielo resta con la città di città e la città di Cusano. Per questa istituzione caratteristica, che è ancora fondata, ha ricordato il suo obiettivo. Il suo obiettivo è servito e servito il suo obiettivo che Nicolaus intende per lui come casa per ogni giorno. Il città di 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 Città. 1514 opere. Non c'erano, non c'erano di Cusano scuola, e i suoi obiettivi erano leggermente nel 19th century, che Giordano Bruno ha quotato, mentre alcuni pensieri, come Gottfried Leibniz, un grande filosofico, pensavano essere influenzati da lui. neocantiano scuola, iniziano a studiare Nicolaus nel 19th century. A nuova edizione è iniziata da l'Alderberghe Accademie der Wisserschaft nel 1930, e pubblicato da Felix Mayner Verlac. Nel 20th century è stato hailedto come il primo modello moderno, molto debattato da centriamo la questione di se deve essere essenzialmente una figura di rinascente società e centriamo dedicati a Cusanos possono essere trovati in Argentina, o in Giappone, o in Germania, l'Italia o in gli Stati Uniti. Bene, professor, grazie a te molto, è stata una conferenza molto interessante, grazie a te molto e buona giornata in Italia. Grazie a tutti, grazie a tutti, ci vediamo la prossima. un abbraccio a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti,